Sempre più frequenti le truffe online, numerosi gli episodi in tutta la provincia. L'ultimo è accaduto ad un 63enne di Campo d'Arsego, vittima di un raggiro avvenuto attraverso il web. I carabinieri però questa volta sono risaliti ai presunti autori della truffa e hanno denunciato due calabresi di 20 e 32 anni. I due uomini, dopo essersi fatti inviare 220 euro per alcuni pezzi di un'automobile pubblicizzati attraverso un annuncio, internet non li hanno mai inviati al compratore. Grazie a tutti.